E lo farete anche voi! No! A che stai scherzando, Teresa? Noi dobbiamo organizzare le rasse produttive! Bisogna spezzare le catene perché non abbiamo aperto solo l'orologio perché da ciascuno secondo i suoi bisogni o secondo ciascuno le pizze perché non è l'estrengrenza sociale che crea la coscienza e l'aglio inconsciente! E' pazzo, Teresa! Vai, compagno, vai! Dove?! Grazie a tutti!